La seconda questione di dettaglio, in apparenza di dettaglio invece estremamente importante, è un passaggio del film. In questo passaggio si vede la vittima che col proprio telefonino riprende il distintivo del poliziotto che lo ferma. Bene, questo segna invece una carenza, un deficit, un'assenza del nostro sistema di garanzie e di tutela. Questo in Italia non solo non è possibile oggi, ma temo non sarà possibile nemmeno nei prossimi anni. Cioè non sarà possibile nel rapporto che dovrebbe essere di parità tra cittadino e apparati dello Stato, quello strumento elementare di garanzia che è la possibilità di ricorrere alla tutela rappresentata per l'autorità giudiziaria di poter identificare successivamente l'autore di una buccia. Sei ancora sul treno? Siamo fermi a Fruitvale. Perché non mi dite che sta succedendo? Qual è il problema?